Salve a tutti, sono Kukus Rao. Il mio manager si chiama Vic e mi sarete andato anche quello del canale. Dobbiamo arrivare almeno 5 mili iscritti. Arriveranno nuovi format, nuovi cover, però dovete dirvi voi, le cover che volete e le idee ovviamente. Le cover e le idee che volete. Grazie a tutti e ciao a tutti da Kukus Rao.